Mi chiamo Leonardo e frequento il quarto anno del corso Tecnicografica e Comunicazione presso l'Istituto Casimiri di Qualtadino. Ormai quattro anni fa come voi mi sono trovato a dover fare una scelta per il mio futuro e ho deciso di intraprendere questo percorso. Sono una persona creativa, amo le nuove tecnologie e nonostante non avessi particolari abilità nel disegno, non mi sono pentito della scelta fatta. Durante il percorso ho potuto sperimentare e migliorare le mie tecniche e competenze che mi consentiranno di inserirmi fin da subito nel mondo del lavoro. Nei laboratori di disegno tecnico-grafico abbiamo a disposizione tre aule informatiche di cui una allestita con 24 costazioni Mac, con pacchetta Adobe e stampanti 3D, un'aula di fotografia e una di disegno. Se ci pensate infatti oggi siamo circondati da immagini e contenuti audiovisivi dall'interfaccia dello smartphone o di un'app, passando per siti web, riviste, iperi ebook, grafiche e loghi per prodotti che troviamo sugli scaffali di supermercato. Fino alla comunicazione pubblicitaria tradizionale e alle insegne luminose nelle grandi città. Dopo il quinto anno potrò scegliere se continuare gli studi universitari, frequentando la Naba, l'Istituto Europeo di Design, la Facoltà di Ingegneria del Design, oppure inserirmi direttamente nel mondo del lavoro. In questo caso le opzioni sarebbero diverse, sfruttando le nuove tecnologie, le competenze di marketing e le opportunità lavorative fornite dal mondo del web. Potrai intraprendere la libera professione o inserire in realtà azientali come tipografie, studi grafici, case editrici e agenzie di pubblicazione. Facilitato dal percorso di alternanza scuola-lavoro che vi permette di collaborare con l'azienda del territorio. Se vuoi diventare un professionista in questo settore, aprendoti le porte alla realtà lavorativa attuale ambita, è questo l'indirizzo che farà per te. Casimiri, impariamo a vedere oltre.